Ma non ti sembra che ci sia un rigurgito veramente di cattiveria nel mondo, ma proprio cattiveria, odio sociale che poi è alimentato proprio da chi dice di non volerlo, ma invece secondo me lo sta alimentando. C'è questo politically correct, questo volerci gli uni contro gli altri, non si può dire una cosa, non se ne può dire un'altra e quello non puoi farlo. Non ti sembra che si sta alimentando l'odio invece che reprimerlo? Ma proverei quanto si può dare una risposta tecnica o quasi tecnica. C'è un meccanismo dell'inconscio, ben noto dagli psicanalisti, già studiato in parte anche dai primordi di Freud e dalla sua scuola, ma anche di Jung, che si chiama formazione reattiva. Cos'è la formazione reattiva? È un meccanismo dell'inconscio per il quale molto spesso le cose che la ragione legge come X provengono da uno stato d'animo che potremmo chiamare Y o Z e che è esattamente il suo contrario. È il meccanismo per il quale, per dire una cosa molto semplicistica ed esemplificata, un timido può diventare aggressivo, oppure un avaro può esibire un atteggiamento prodigo, oppure un individuo particolarmente lussurioso e particolarmente libidinoso nei suoi comportamenti profondi esprime invece una manifestazione di estrema castità e di estrema prudenza. La formazione reattiva è una cosa che gira dall'interno all'esterno le cose nel loro contrario. Tutti abbiamo conosciuto persone che erano timidissime ma che poi tentavano e riuscivano anche ad apparire estraverse fino ad essere sfacciate. A me pare che questo fenomeno individuale si sia rivoltato nel suo contrario. Cioè persone che hanno dentro di loro una carica di violenza, di aggressività, di bisogno di controllo, di bisogno di oppressione dell'altro, debbano esibire invece una somma di sfacciati ed esibiti buoni sentimenti. E quindi, come dire, coloro che in realtà vorrebbero dominare gli altri, dicono ed esprimono l'idea che in realtà loro non vogliono dominare nessuno, ma vogliono soltanto il bene comune che però decidono loro qual è. O coloro che invece vorrebbero rinchiudere la gente nei lager o nei gulag, dicono che invece bisogna essere tutti liberi di poter sfilare in strada, purché, come dire, con delle bandiere di un certo colore e con delle piume infilate da qualche parte. Cioè, l'importante per esercitare il potere è che questo esercizio del potere non appaia tale. Ed effettivamente questo funziona da molti punti di vista. Perché noi oggi assistiamo a un meccanismo di funzionamento del potere nel quale la filantropia, l'ecologia, il bene comune, il futuro dell'umanità, la pace, diventano in realtà delle mazze ferrate che vengono calate sul libero arbitrio, sulla decisionalità degli individui, delle comunità, delle famiglie, dei popoli, nel nome di un presunto bene comune che è stato stabilito a priori. Quindi è Big Pharma che decide che cos'è salute, che cos'è malattia. E' il World Economic Forum che decide che cosa si dovrà mangiare, si dovrà consumare o quale energia dovrà essere utilizzata. E sono i soloni dell'egemonia del potere culturale che decidono che cosa è di buon gusto o di cattivo gusto. Nota bene che quando questo accade, anche il meccanismo fondamentale di gestione del potere, che è la democrazia, viene vanificato da un'egemonia culturale nella quale chiunque vinca le elezioni, chiunque governi, chiunque controlli delle istituzioni o delle magistrature, come direbbero gli antichi romani, non è importante. Perché tanto saranno sempre gli erogatori del bene che si premiano tra di loro, che decidano quale libro deve essere letto, quale non deve essere letto, qual è un valore praticabile, un valore non praticabile. E poi ci sono anche dei rituali religiosi collettivi nei quali questo meccanismo si manifesta. Se voi guardate, se noi del Libro di Torino, il premio Strega, il premio Campiello, vedrete che in realtà ci sono degli individui di un'unica parte culturale, politica egemonica che si premiano tra di loro. E chiunque non faccia parte di questo inner circle, capito, come dire, in cui si viene legittimati ad essere ciò che si è e del quale noi per esempio non facciamo parte, evidentemente, può essere chi vuole, può avere fatto qualsiasi cosa di positiva per l'umanità, può avere qualunque grado di filantropia, può avere qualunque grado di socialità, ma non farà mai parte di coloro che entrano in quel circuito soltanto per una cooptazione che garantisce l'egemonia. Quindi questa egemonia fa sì che anche quelli che la pensano in modo opposto prendono il potere politico, dovranno scimmiottare quello che pensano gli altri, che comunque anche se sono minoranza hanno l'egemonia culturale sulla società. Gramsci ha spiegato bene questo meccanismo. Quindi anche la Meloni, anche Salvini, anche Tajani, anche Berlusconi, quando qualora anche avessero dalla loro parte la maggioranza, come dire, della popolazione, alla fine dovranno adeguarsi a quello che dice il PD, i suoi salotti, i salotti, quei salotti lì sono quelli che determinano il buon gusto, che cose bene, che cose male, la moralità, l'etica, la progettualità. Naturalmente i fondatori, gli erogatori di questa verità vengono da Davos, vengono dal World Economic Forum, vengono dall'Agenda 2030. E se voi ci pensate un attimo, anche il decantatissimo Briggs, alla fine deve ritrovarsi a discutere del destino dell'Agenda 2030. Cioè fino a che ci sono i direttori d'orchestro che danno il là, che danno il ritmo e tutti devono ballare al ritmo di quel waltzer, che la pensino in un modo o che la pensino nell'altro. Quindi un vero pensiero divergente, veramente libero, diventa difficile, difficilissimo.